C'è stanno due ragazze che si incontrano dentro a un pub, a un certo punto una gli fa l'altra e tu nella vita che fai? Dicevo ho fatto la mignotta, ma davvero? Dice sì, e ora? Adesso sto in pensione, dice in pensione, ma quanti anni hai? Trent'anni, è già in pensione? Oh bella, io quando ho lavorato ho lavorato duro, durante la giornata non c'avevo un buco libero.